Partono con Prudenza, Nello del Sile e G Bartur, veloce dalla seconda fila, Noa B, non fa partenza Mari Mari, Iago F per il comando, Iago F a lato di Lambro, in terza posizione Clisse Domar, poi Southwind Samurai con il fuori di Benza, Fabio Restelli che insiste con Iago F, Max Castaldo che gli nega il comando, costringendolo ad accodarsi in seconda posizione, in terza rimane Clisse Domar, in quarta Southwind Samurai. Così si esce dalla piegata per completare il quarto iniziale in 29.3 alla media di 1.13.3, risale il favorito Mari Mari, Lambro al comando, Iago F in seconda posizione, terza in fuori Mari Mari, che scavalca Clisse Domar, all'esterno anche Noa B, poi Southwind Samurai, quindi Rivenza con in fuori G Bartur, Poi ancora Tarzanin, Enello del Sile. Posizioni sostanzialmente statiche, secondo quarto in 38, 1.001 per gli 800, la media di 1.15.1, Fandatura Lambro, secondo in fuori Mari Mari, che a questo punto potrebbe dare la punta di velocità nella sua scia, sempre Noa B. Completamento del giro in 1.15, Lambro e Mari Mari virtualmente in linea, Lambro avanti a Mari Mari, terzo lungo la corda Iago F, quarto in fuori Noa B, poi Eclisse Domar, quindi all'esterno ancora Nello del Sile, l'esterno Southwind Samurai, poi in fuori anche G Bartur, terzo quarto in 28.9, ingresso addirittura, Lambro avanti a Mari Mari, Mari Mari che si ingamba e scatta con velocità superiore, Mari Mari ha scavalcato Lambro, poi Noa B, Mari Mari, Noa B, Lambro, Southwind Samurai, Eclisse Domar, 28.2 il quarto conclusivo, 1.57.2 il tempo totale, media al chilometro, 1.13.3, così era scritto così, è stato, 1.38 al totalizzatore, in seconda Noa B, per la terza, Lambro di dentro, Southwind Samurai a largo.